buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video da valerio villa metropolis immobiliare oggi ci troviamo in una zona centralissima di lugano e quello che visiteremo è un 4 e mezzo veramente molto bello inserito al secondo piano di questo stabile del 2008 che vedete alle mie spalle questa è una zona veramente molto comoda pianeggiante dove si raggiunge qualsiasi servizio a piedi in pochi minuti quindi è l'ideale per coloro che cercano le posizioni molto centrali è un appartamento dotato di un posto auto nell'autorimessa e abbiamo anche in dotazione del condominio una lavanderia in comune dove ognuno può mettere la sua macchina per lavare ma anche in casa quindi è veramente molto pratico abbiamo anche del verde nelle vicinanze quindi il parco per i bambini ed è veramente un contesto ideale per coloro che stanno cercando qualcosa davvero vicino a tutte le principali infrastrutture io vi ricordo anche che se avete un immobile da vendere o da affittare non esitate a contattarci poiché abbiamo davvero migliaia di clienti che ci contattano tutti gli anni è un sistema veramente molto innovativo per trovare il cliente giusto per il vostro oggetto quindi se volete un servizio a 360 gradi contattateci e avremo sicuramente qualcosa di interessante da mostrarvi ora venite con me che entriamo nella proprietà per poterlo per poterla visitare ecco siamo arrivati al secondo piano accessibile ovviamente direttamente dall'autorimessa con un ascensore oppure con la scala condominiale e entriamo nell'appartamento dove accendiamo tramite un corritorio che ci permette di entrare subito in una delle tre camere quindi un quarto e mezzo locali come vedete c'è tanta privacy sala in un contesto molto centrale ma allo stesso tempo che è molto riservato la prima camera come abbiamo visto poi torniamo nel corridoio dove abbiamo delle cabine armadio su misura a muro una seconda camera una bella finestra sempre con la vista sulla parte del verde sul retro dello stadio che abbiamo tantissima privacy poi abbiamo una terza camera sempre su questo lato del corridoio quindi con le grandi cabine armadio già predisposte all'interno dell'appartamento sempre con la vista sulla parte del verde condominiale questa camera è inoltre dotata di un bagno padronale con vasca e con lo spazio per la lavatrice come potete vedere la porta dentro è praticamente come muovo tenuto benissimo con delle belle finiture eleganti qui sempre nella zona che divide la zona notte e la zona giorno abbiamo un bagno con doccia e poi entriamo in quella che è la zona giorno che è sfrutturata con un bel soggiorno spazioso una bellissima cucina moderna completamente accessoriata ad angolo con questo muretto che separa appunto dalla zona del soggiorno una cucina ovviamente con tutti i comfort tutte le dotazioni i farete spotlight con il soffitto rimbassato molto eleganti e quindi il taglio davvero moderno abbiamo l'aria condizionata che è un ottimo option e poi abbiamo questa parete strutturata con questi armadi e questi vani in libreria che è sotto al 100% tutta la lunghezza della parete quindi davvero molto bella e pratica poi da qui tramite questa grande finestra usciamo quella che è la terrazza quindi una terrazza grande dove abbiamo anche gli armadi a muro il contesto come vedete è centralissimo siamo in zona pianeggiante praticamente a 10 minuti a piedi dal centro di Lugano e a due minuti da tutti i servizi market abbiamo la cop la migros e tutto quello che si può desiderare la posta le banche eccetera ecco ora rientriamo nella zona di Lighi così vi posso fornire tutte le informazioni vi ricordo che si ha un secondo piano inserito in uno stabile nella zona di Lugano centrale non siamo veramente a pochi passi da tutti i principali servizi come dicevo è un appartamento 4,5 locali di circa 120 metri quadrati abbiamo una bellissima terrazza l'aria condizionata tutte le dotazioni di una bellissima cucina moderna l'appartamento è dotato molto nel posto auto e nell'auto rimessa e il condominio è dotato anche di un bellissimo parco condominiale quindi ideale anche per chi ha famiglie con bambini poiché siamo sì in centro ma in una zona davvero molto ben organizzata e con tutto quello che serve appunto anche per i bimbi e con tutte le dotazioni abbiamo una lavanderia anche in comune colento e la possibilità di mettere la lavatrice in casa lo stabile e lo stabile del 2008 quindi praticamente recente e pari al nuovo molto piacevole anche dal punto di vista estetico anche per quanto riguarda la struttura stessa dello stabile nella descrizione del video trovate tutte le informazioni relative alla proprietà tramite il sito www.metropodisimobiliare.com o il numero di telefono che vedete qui sotto potrete contattarci per qualsiasi ulteriore informazione relativa a questa proposta io ovviamente vi ricordo di mettere il like al video iscrivervi al canale YouTube di Metropolis per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità riguardo ai nostri immobili e ovviamente vi ricordo che se avete un immobile da vendere o da affrontare a Lugano, Dottrisio, Mellinzionese, quindi nel cattolo Ticino non esitate a contattarci per ricevere una valutazione gratuita e la migliore strategia per poterlo vendere al miglior prezzo possibile o per poterlo affrontare al miglior prezzo possibile e alle migliori condizioni possibili e nel minore tempo possibile abbiamo migliaia di clienti che ci contattano tutti gli anni e sono proprio alla ricerca dell'oggetto giusto e con il nostro sistema sicuramente il vostro oggetto potrebbe essere uno di quelli che questi clienti stanno cercando quindi non esitate a contattarci per avere una stima gratuita di qual è la migliore strategia per ottenere questo risultato io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi e ovviamente vi auguro un'ottima giornata e ci vediamo al prossimo video